E' troppo forte, Zucchina. Andiamo, sveglia. Datti una mossa, ho altro da fare io. Sembra dolce come un caffè amaro, quella. Che donna orribile, veramente disgustosa. Ehi, nuova arrivata, raccontaci perché sei qui. Perché mia madre tutte le mattine mi mandava a scuola mascherata da dinosauro. Davvero? Ehi, mi prendi in giro? A me piacciono tanto i dinosauri. Tutti fuori di testa. Questi si chiamano preliminari. Se Rosie fosse in un letto con il maestro Paul, lei suderebbe un sacco. E il pisellino del maestro Paul esploderebbe. Maestro, maestro! Sì, Ahmed? Volevo sapere se sta bene il suo pisellino. Perché se esplode, non potremmo più andare sulla neve. Lo sai, sul Pullman. Io non dormivo. Vieni, piccola mia, torniamo a casa. Io non ti lascerò andare via. Resteremo tutta la vita insieme. Sì! Fermi così. No! 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 No!